A partire dal Vangelo di Luca, Papa Francesco, nell'Omelia in Spagnolo della Messa a Santa Marta, tocca il tema della compassione di Dio, che ha dato mandato a suo figlio di guarire, rigenerare e rinnovare l'umanità. Ma questo non significa avere pietà, è mettersi nel problema, ferma, è mettersi nella situazione dell'altro, con il cuore di padre. Gesù curava la gente, però non è un guaritore. No, curava la gente come segno, come segno della compassione di Dio, per salvarla, per rimettere al suo posto nel recinto la pecorella smarita. I soldi smarriti da quella signora nel portafoglio. Dio ha compassione, Dio ci mette il suo cuore di padre, ci mette il suo cuore per ciascuno di noi. E quando Dio perdona, perdona come padre, e non come un impiegato del tribunale, che legge una sentenza e dice, assolto per insufficienza di prove. Ci perdona da dentro, perdona perché si è messo nel cuore di questa persona. È quello che fa un sacerdote, commuoversi, impegnarsi nella vita della gente, anche se spesso ci lamentiamo del suo disinteresse. Un prete, aggiunge il Papa, è un sacerdote come Gesù è sacerdote. È il ministero portato avanti per 60 anni dal cardinale Aviello Zano Barragan, presente a Santa Marta. Francesco evidenza il suo impegno presso il Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari e ricorda che dalla compassione di Dio ad oggi vi è una linea. E questo è un regalo che il Signore fa al cardinale Barragan, poter vivere così per 60 anni.